Sono oltre 20.000 gli aritini ufficialmente riconosciuti come diabetici, ma si calcola che forse almeno attrettanti che non sono censiti. Sono numeri impressionanti che vengono forniti proprio alla vigilia della nuova giornata mondiale del diabete. Sì, le giornate saranno dal 14 al 17, perché così sono le giornate che si festeggia in tutto il mondo. I numeri sono questi, sono numeri in aumento vertiginoso. Eravamo, pensate cinque anni fa, intorno al 3,5-4%, siamo già al 7,5-8%. Perciò dicono che è una patologia della civiltà e io spero che proprio non sia questa la colpa. Una patologia che affligge anche persone appartenenti a culture diverse, quindi alcuni diversa comunità che arrivano qua. Infatti il centro di diabetologia di Arezzo, che è abbastanza importante, deve affrontare anche queste situazioni, perché si parla di stili corretti di vita, si parla di prevenzione, però è molto difficile spiegare a persone di altre culture che non si può mangiare alcune cose che loro mangiano e invece andare avanti diversamente. In queste giornate un nuovo motivo di sensibilizzazione, di richiamare l'attenzione su questo tema. Noi saremo sabato otto ore a Lessi Lunga. Staremo là, ci incontreremo con la popolazione, abbiamo portato anche un nutrizionista, un dietologo, poi avremo una buona parte di quello che sono i dottori della diabetologia e poi il 17 mattina al San Donato ci sarà un convegno. importante perché stanno investendo anche a livello regionale più soldi nella prevenzione, perché hanno probabilmente capito finalmente che se si intimorisce un po' la popolazione, in alcune volte essendo anche estremamente sinceri, forse qualcuno si blocca e vive diversamente.